14 mesi per una soluzione possibile sono tanti, troppi quando pesano sulla sussistenza di famiglie senza reddito. È la lettera aperta dei ricercatori Ex Index che da oltre un anno, vale la pena ricordarlo, sono senza lavoro a causa della chiusura del sito Aquilano. Vogliamo rimarcare, scrivo in un'accorata lettera, la necessità di convergere nel progetto di ricollocazione agganciato alla Spese Economy. Al filone della Spese Economy la regione Abruzzo durante la precedente legislatura ha investito in maniera sostanziale 10 milioni di euro recependo l'indirizzo strategico nazionale con l'obiettivo di incentivare l'occupazione e recuperare le altissime professionalità sul territorio fra le quali quelle dei lavoratori Ex Index. Lo scorso 4 febbraio ricordano nella sala giunta della regione Abruzzo alla presenza fra gli altri di NFN, Università e Gran Sasso Science Institute è stato ribadito l'impegno alla loro ricollocazione sulla base delle alte competenze dei profili professionali fra Forender 24, impresa fornitrice di servizi tecnologici e tre player industriali coinvolti nella strategia nazionale della Spese Economy ovvero Tales Alenia Space, Leonardo e Telespazio. In particolare la capofila Tales Alenia Space si è impegnata sin dall'inizio con la regione Abruzzo e con i sindacati a fronte di finanziamenti regionali a riassorbire prioritariamente le professionalità di alto profilo tecnologico. Per oltre 25 anni i lavoratori Ex Index impegnati nella progettazione di grandi apparati di telecomunicazione anche nel settore Aerospace, oggi noi lavoratori chiediamo a tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e industriali il rispetto degli impegni presi. Alla nuova amministrazione regionale, nello specifico al presidente Marsilio, all'assessore alle attività produttive FEB e al sindaco dell'Aquila chiediamo di riprendere la regia dell'operazione strategica per il territorio. Non si può non sottolineare che la condizione di Intex sta assumendo contorni disperati licenziati da oltre un anno con un'operazione giudicata illegittima dal Tribunale del Lavoro. Oggi si trovano ad essere senza lavoro, senza salari né indennità. Un appello dunque alla responsabilità e loro.